L'artista esistenziale si è buona giornata a tutti, aeroporto Costa d'Amalfi a Salerno, tra Bellizia e Salerno, 12-13 km da Salerno, diciamo una larghezza giù di lì, sui 45 metri, poco importa, ma la lunghezza, c'è stato un prolungamento, se non sbaglio, un marzo di qualche anno fa da 2.000 a 2.200 di lunghezza. La cosa importante per quella che è una riqualificazione o comunque un miglioramento, un accrescimento per quanto riguarda questa situazione dell'aeroporto di Salerno è che apre ufficialmente l'11 di luglio, credono alle 9 di mattina, con 5 rotte diverse, il primo volo l'ISI-Jet. Quindi questo aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi farà Milano-Malpensa, Berlino, Basile-Svizzera, Ginevra e Londra-Gatwick, quindi riguarderà se non sbaglio, tra le altre cose, mi sembra una settantina, scusatemi, 51 rotte, 13 paesi e se non sbaglio, 70 hotel di riferimento. Tra le nuove destinazioni, Nancy in Francia, Creta, Preveza e Zante in Grecia. Ma la cosa quindi, secondo me, importante di questo periodo fa riflettere, perché sono migliaia di turisti dal Regno Unito, Svizzera, Germania e Francia, quindi arriveranno verso il sud dell'Italia in questi EasyJet holiday, o tour operator di vari gruppi e quant'altro. La cosa positiva, quindi riguarderanno tra l'altro anche 700 hotelli italiani, è che fondamentalmente parliamo di tre compagnie, adesso non le ricordo tutte a memoria, due sicuro, la terza e stanno valutando accuratamente Ryanair. Signore, una grande soddisfazione, perché dopo tante peripezie, finalmente quest'aeroporto può generare guadagni, può togliersi delle soddisfazioni, può creare posti di lavoro e quant'altro. Quindi aspettiamo fiduciosi l'apertura dell'aeroporto costa di Salerno. L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti.